Grazie a tutti voi l'ultimo appuntamento prima della pausa estiva con il corso che abbiamo proposto nell'ambito dell'assistenza tecnica al fondo di sviluppo e coesione in occasione proprio del PSC 2000-2020 anche per rafforzare le competenze di chi è entrato in questo gruppo di lavoro sia da parte regionale sia da parte di assistenza tecnica e quindi con questa serie di incontri che abbiamo avuto inizialmente ogni settimana e poi ogni due settimane. Io sono Maria Rosaria Russo, la responsabile appunto del progetto di assistenza tecnica e oggi vedremo l'ultima parte del programma relativo agli aiuti di Stato con il professor Caruso e daremo appunto un approfondimento rispetto all'ultimo appuntamento che c'è stato due settimane fa all'incirca e appunto sulla base di alcuni stimoli, alcune domande che erano emerse da parte dei partecipanti. appunto vedo siamo venti, aspettiamo giusto qualche minuto prima di iniziare vi ricordo per chi non avesse proceduto all'iscrizione sul sito EventiPA di procedere speditamente questa iscrizione al sito EventiPA ci permette di farvi entrare nel sistema, nella piattaforma di e-learning che appunto a breve apriremo per appunto il vostro approfondimento e all'interno del quale, all'interno della piattaforma troverete tutte diciamo le lezioni virtuali, quindi i webinar che abbiamo svolto in questi mesi nonché appunto tutti i documenti di approfondimento che sono stati citati. E' importante entrare poi nella piattaforma di e-learning perché è importante immagino per voi poi acquisire l'attestato di partecipazione a questo percorso, quindi al termine di ognuno dei moduli in cui è stato diviso il percorso avrete dei test a disposizione e appunto al termine del ciclo di apprendimento potrete poi scaricare sul sito EventiPA l'attestato. Però appunto poi con una mail dedicata vi daremo i dettagli diciamo di questo perfezionamento della chiusura del percorso. A settembre ci auguriamo di poter organizzare dei focus group sia sull'Aquila che su Pescara quindi di svolgere le attività dedicate e in presenza. Quindi alla luce di tutto quello che vi sto dicendo, se ci sono particolari richieste, particolari esigenze vi chiedo appunto di farlo presente a me tramite l'email di progetto che è a tparfas.abruzzo.it o comunque tramite i consulenti della task force di assistenza tecnica sia coordinatori che appunto altri collaboratori. Allora io appunto credo di aver occupato il tempo necessario per far sì che altri colleghi ci raggiungessero e quindi vorrei iniziare a chiedere al docente, al professor Caruso di accendere la webcam. Buongiorno Giovanni. Buongiorno, buongiorno. Perfetto. Eccoci. Allora lo sentiamo porto e chiaro, quindi direi che sono le 9.34, io ti lascio una parola, proveremo appunto tra un blocco di apprendimento e l'altro di fare una breve pausa dove eventualmente occuperò il tempo della pausa, ho le domande che nel frattempo saranno pervenute oppure con appunto ribadendo un po' qual è l'iter del percorso. Quindi ti lascio la parola. Va benissimo, grazie mille Maria Cossaria. Allora, oggi riprendiamo alcuni degli argomenti che nel corso degli ultimi webinar non erano stati esauriti e anche alcune sollecitazioni che sono arrivate rispetto ad alcuni approfondimenti che riguardano sempre il settore della contrattualistica pubblica. Mentre diciamo la seconda parte, la parte più corposa appunto di questo webinar sarà dedicata alla problematica degli aiuti di Stato che verrà esaminata a meno nelle sue linee essenziali. Durante l'ultimo incontro che abbiamo avuto lo scorso 15 giugno avevamo affrontato alcune particolari tipologie contrattuali e proprio in chiusura ce l'avamo concentrati sull'accordo quadro, ossia un particolare strumento che può essere utilizzato dalle pubbliche amministrazioni e dalle stazioni appaltanti che consente di aggiuricare all'esito di una procedura d'evidenza pubblica un assetto di rapporti che poi dovrà essere implementato successivamente con ulteriori atti. Questa è una tipologia contrattuale abbastanza innovativa ed è contemplata oggi dall'articolo 54 del codice sui contratti pubblici il quale il codice dei contratti pubblici definisce l'accordo quadro come un accordo concluso tra una o più stazioni appaltanti e uno o più operatori economici che ha lo scopo di stabilire quali siano le clausole da applicare ad appalti da giudicare entro un determinato periodo di tempo, in particolare per quanto riguarda i prezzi e eventualmente anche determinate quantità. Questo accordo quadro può concludersi sia con una sola stazione appaltante ossia essere l'effetto di un'aggregazione appunto di varie stazioni appaltanti e può concludersi con un solo operatore economico a condizioni fisse già stabilite con più operatori economici sempre a condizioni fisse oppure con più operatori economici a condizioni che poi dovranno essere nel concreto dettagliate e quindi saranno oggetto di una successiva rinegoziazione. Sono previsti degli specifici limiti temporali rispetto a questo accordo quadro perché la durata massima dell'accordo quadro è di 4 anni per i settori ordinari e di 8 anni per i settori, i cosiddetti settori speciali. Ciò però non interferisce sulla durata delle prestazioni che possono essere dedotte all'interno dell'accordo quadro. Nel senso ciò che dura 4 anni è la possibilità di ricorrere all'affidamento mediante accordo quadro ma la durata delle prestazioni può evidentemente superare tali limiti. Perché può superare tali limiti? Perché all'interno dell'accordo quadro proprio per la sua struttura è pensato come una tipologia contrattuale che prevedendo appunto la definizione di un assetto di rapporti consente che poi le obbligazioni concrete sorgeranno dopo la stipula dei singoli contratti esecutivi degli ordini di servizio o di altri strumenti operativi con cui effettivamente si darà seguito all'accordo quadro che è stato stipulato a monte. E questi contratti esecutivi che derivano appunto dalla stipulati a valle dell'accordo quadro non sono soggetti a limitazioni temporali. Questo strumento è uno strumento che anche se adesso sta progressivamente prendendo piede è stato utilizzato in realtà non come avrebbe dovuto. Nel senso che presenta notevoli potenzialità applicative e notevoli benefici soprattutto quando si tratta di operare all'interno dei fondi europei. E ciò non solo perché è uno strumento che garantisce ovviamente una certa flessibilità alle amministrazioni aggiudicatrici e alle stazioni appaltanti perché non si vincola per la stipula del contratto ma vincola diciamo genericamente l'assegnazione di un assetto di rapporti ossia l'insieme delle clausole contrattuali. Quindi non vincola già immediatamente l'impiego di determinate risorse. E consente altresì di evitare delle lungaggini derivanti dalla ripetizione di procedure di affidamento e quindi di diverse gare, la gestione procedimentale di diverse operazioni di gara quando le stesse abbiano oggetto delle medesime prestazioni. Tuttavia le possibilità, diciamo le potenzialità maggiori legate all'utilizzo di questo strumento derivano dalla possibilità di avvalersi anche di accordi quadro già stipulati precedentemente all'assegnazione di determinati fondi europei, giacché l'esistenza di questo accordo quadro costituisce normalmente una condizione già assolta per il rispetto delle procedure ad evidenza pubbliche che poi sono richieste nelle varie checklist di autocontrollo. Ci sono però delle specificità da tenere presente quando si fa ricorso a questi strumenti perché non sempre le checklist di autocontrollo sono strutturate tenendo presente le specificità di questi accordi quadro perché normalmente nelle checklist di autocontrollo si fa riferimento alla procedura di aggiudicazione e la proposta di aggiudicazione viene considerata come il momento di chiusura appunto della procedura ossia il momento in cui può essere individuata e cristallizzata l'assunzione dell'obbligazione giuridicamente vincolante. Ciò non avviene ovviamente per l'accordo quadro perché proprio per la sua natura l'obbligazione giuridicamente vincolante si raggiunge solamente a valle di questo processo ossia nel momento in cui viene effettivamente stipulato il contratto esecutivo in base alle condizioni già stabilite nella procedura condotta ai sensi dell'articolo 54 oppure i medesimi effetti si raggiungono secondo le specificità della stazione appaltante anche attraverso un ordine d'acquisto o una forma di ordinativo diversa che magari è in vigore rispetto a alcune stazioni appaltanti e amministrazioni e aggiudicatrici che sono strutturate in forma di società per azioni che hanno un proprio sistema informatico attraverso sul quale possono disporre l'ordinativo in base ad un accordo quadro già stipulato. Un'ulteriore specificità che riguarda l'accordo quadro è anche un potenziale beneficio che dipende comunque dalla natura e dall'oggetto delle prestazioni a cui si riferisce e che ricorrendo a questo strumento soprattutto quando si tratta di accordi quadro già stipulati si possono avere notevoli benefici rispetto all'impiego delle cosiddette economie di gara perché teoricamente se ricorriamo allo strumento dell'accordo quadro non ci sarebbero delle economie di gara che poi sarebbero sottoposte a dei vincoli specifici per il riutilizzo ma l'entità del finanziamento potrebbe essere utilizzata integralmente senza le corrispondenti riduzioni che poi deriverebbero da alcuni adempimenti procedimentali che caratterizzano il riempiego delle economie di gara. Questo ovviamente accade quando si tratta di prestazioni omogenee nel senso il finanziamento europeo è concesso per diciamo ristrutturare ad esempio o interventi manutentivi su 100 km di acquedotto e in questo caso ad esempio si può utilizzare integralmente l'entità del finanziamento assumendo che lo stesso comunque copra già un quantitativo un quantitativo già previsto nell'assegnazione ai relativi fondi. Quindi in ultima analisi questo è uno strumento che soprattutto se combinato alle esigenze specifiche dell'impiego dei fondi europei è particolarmente utile alle prospettive delle amministrazioni che le stanno utilizzando. Altro strumento che viene, che assume rilevo e di cui non abbiamo parlato è quello del cosiddetto partenariato pubblico privato e qui il partenariato pubblico privato è una formula diciamo generica con cui sostanzialmente si vuole indicare una forma di coinvolgimento del privato non solo nella fase di realizzazione dell'opera o della fornitura di servizio ma anche nella fase appunto di finanziamento e progettazione nonché di gestione della relativa opera. Queste le basi teoriche su cui si fonda questa implementazione di modelli che prevedono un maggior coinvolgimento del privato vengono ricondotte anche a discipline di ordine costituzionale e quindi al principio di sussidiarietà orizzontale che troviamo espresso nel quarto comma dell'articolo 118 il quale ci dice che bisogna favorire i privati singoli associati nell'attività di interesse generale. Però questo principio applicato al settore della contrattualistica pubblica risulta particolarmente utile soprattutto in periodi in cui vi è una scarsità di risorse economiche e finanziarie a disposizione da parte delle amministrazioni appaltanti. Questi strumenti di partenariato pubblico privato consentono entro alcuni limiti alle pubbliche amministrazioni di non anticipare i costi appunto di costruzione ma di scaricare l'entità appunto del finanziamento sull'intervento del privato che peraltro essendo coinvolto normalmente anche nell'attività di progettazione e gestione dell'opera avrà poi tutto l'interesse a far sì che il proprio progetto sia un progetto in grado di autofinanziarsi e quindi sostanzialmente questo strumento consente di sfruttare il privato sia in ragione delle sue competenze tecniche sia in ragione appunto delle proprie disponibilità di carattere finanziaria. Questo modello è un modello con cui si identificano tante formule in realtà differenti e talvolta viene utilizzato anche per descrivere fenomeni quali le società miste e se non anche le società in house. Tuttavia adesso con il codice dei contratti questo strumento di partenariato pubblico privato ha trovato una più chiara collocazione giuridica perché vi sono degli articoli che prevedono un archetipo generale di questo modello contrattuale e poi a valle di questo archetipo generale si continuano a mantenere delle discipline settoriali che riguardano alcune particolari formule di partenariato pubblico privato che si erano già diciamo affermate nel corso del tempo come la finanza di progetto ossia il project financing, l'allocazione finanziaria di opere pubbliche e diciamo altre forme di concessione in vario modo appunto disciplinate dall'ordinamento. Quindi questo è un quadro, quello fornito, l'archetipo generale del modello del contratto di partenariato pubblico privato è un quadro generale che si aggiunge a queste figure già tipizzate e deve presentare alcune caratteristiche che sono indicate dalla stessa disciplina di riferimento e il codice dei contratti pubblici nell'ambito appunto delle proprie definizioni ci indica che cos'è questo contratto di partenariato pubblico privato e ci dice che è un contratto a titolo oneroso stipulato per iscritto con il quale una o più stazioni affattanti conferiscono a uno più operatori economici per un determinato periodo di tempo in funzione della durata, dell'ammortamento, dell'investimento, della modalità di finanziamento fissate, un complesso di attività consistenti nella realizzazione, trasformazione, manutenzione e gestione di un'opera in cambio della sua disponibilità, del suo sfruttamento economico o della fornitura di un servizio connesso all'utilizzo dell'opera stessa. L'elemento caratterizzante di questa formula è che questo contratto a titolo oneroso deve prevedere una assunzione del relativo rischio e quindi è proprio questo l'elemento caratterizzante di questo modello contrattuale che sostanzialmente ripropone alcune delle caratteristiche o meglio la caratteristica principale che già avevamo visto nell'esaminare la causa appunto del singolo contratto pubblico e la contrapposizione fra appalto e concessione che era proprio nel trasferimento appunto del rischio dalla stazione appaltante all'operatore economico. Questi rischi possono essere poi a loro volta suddivisi e classificati secondo ulteriori formule come il rischio di costruzione che è quello che assume generalmente l'appaltatore a cui però si aggiunge anche un rischio di disponibilità legato alla performance dei servizi offerti dal privato e un rischio appunto di domanda legato anche alle fluttuazioni del mercato. Quindi l'elemento fondante di questo contratto è proprio questo trasferimento del rischio che ovviamente assume delle funzioni e dei caratteri differenziati in ragione appunto di alcune caratteristiche dell'opera. Normalmente noi si distingue appunto fra opere calde cioè ossia dotate di una propria capacità di generare dei ricavi che vengono ripagate con l'utenze, opere tiepide che producono ricavi ma non sono diciamo tali da remunerare integralmente i fattori produttivi impiegati nella realizzazione dell'opera stessa e opere fredde invece in cui la fruizione appunto delle stesse non genera dei ricavi ma il ricavo comunque è costituito dal pagamento, da un pagamento effettuato dalla pubblica amministrazione. In tutti questi casi è previsto che l'assunzione del rischio non è incompatibile con il pagamento, con un pagamento da parte della pubblica amministrazione ma questo pagamento deve essere appunto commisurato e non deve essere tale da escludere assolutamente l'esistenza appunto di questo rischio di impresa ossia il rischio di non venire remunerati i fattori produttivi che deve comunque ricadere sul privato o meglio sull'operatore economico che è stato contrattato con questa formula contrattuale. Un'altra tipologia contrattuale che può essere utilizzata per far fronte alle esigenze delle amministrazioni è quella del dialogo competitivo. Il dialogo competitivo assolve delle funzioni per molti versi simili ad un fenomeno che abbiamo visto nei precedenti seminari ossia quello delle contrattazioni, consultazioni preliminari di mercato. Anche in questa ipotesi l'amministrazione non è perfettamente consapevole diciamo dei caratteri tecnici della propria prestazione di cui ha bisogno e quindi avvia diciamo una consultazione che però già in questo caso costituisce una componente del procedimento ad evidenza pubblica e chiede a varie imprese e operatori economici di partecipare ad un bando di cara o ad una manifestazione interesse fornendo le informazioni richieste per la selezione appunto del contraente. Qui il presupposto è sempre quello che vi sia un appalto complesso in cui l'amministrazione ancora non ha una piena contezza di quali possano essere i mezzi tecnici idoni a soddisfare l'interesse che vuole perseguire. E qui il procedimento quindi si snoda in due fasi in cui c'è un bando, una domanda di partecipazione, una selezione, poi un invito a partecipare e questo invito si compendia con la richiesta di inviare delle soluzioni progettuali. E questa prima fase diciamo termina quando la pubblica amministrazione è in grado di individuare la soluzione che meglio soddisfa queste esigenze. Conclusa questa fase in cui si registra il vero e proprio dialogo, la pubblica amministrazione quindi invita i vari offerenti alla presentazione delle offerte finali senza che però intervenga una modifica sostanziale del contenuto del bando originario. e in questo modo diciamo l'amministrazione gestendo già in fase di gara riesce a ottenere delle offerte che siano più conformi alle esigenze che vuole tutelare. Esaminati questi aspetti su alcune tipologie contrattuali che possono assumere rilevo nell'ambito dei processi di selezione del contraente, una questione su cui era stato richiesto uno specifico approfondimento era quello di chiarire quale fosse la portata precettiva di questo principio che viene introdotto a fianco al principio di rotazione che impone nell'ambito delle procedure negoziate di dover tener conto anche della diversa collocazione, dislocazione territoriale delle imprese invitate. Le perplessità che erano state manifestate rispetto a questo principio sono assolutamente legittime perché questo criterio è un criterio obiettivamente ambiguo e che potrebbe legittimare delle impostazioni che sono l'una l'antipodo dell'altra, dell'altra perché noi lo potremmo considerare sia come un principio che integra il principio di rotazione e in questo caso dovrebbe essere, diciamo, fungere da contrattare alla maggior discrezionalità che caratterizza l'operato della pubblica amministrazione nell'affidamento di contratti durante il periodo emergenziale e quindi in questa logica essendo maggiore l'ambito della discrezionalità dell'amministrazione precedente vi sarebbe l'esigenza di affiancare una, di limitare la discrezionalità dell'amministrazione nella formulazione degli inviti non solo attraverso il principio di rotazione ma anche attraverso un principio che tenga conto della diversa dislocazione territoriale delle imprese che si tradurrebbe nell'imposizione, secondo questa logica, di un obbligo di invitare imprese che siano dislocate quantomeno su tutto il territorio nazionale. Tuttavia se teniamo conto del contesto in cui è maturato questo intervento che viene collocato proprio a valle della disciplina emergenziale sulla contrattualistica pubblica che è stata adottata in conseguenza dell'emergenza pandemica, qui la vera giustificazione o meglio questo chiarimento in cui si deve tener conto della diversa dislocazione territoriale sembrerebbe legittimare la possibilità di accordare una qualche forma di preferenza a operatori locali in ragione appunto di alcune difficoltà logistiche che si erano verificate in conseguenza dell'emergenza pandemica. E qui il principio in questa logica servirebbe proprio per confinare gli inviti alle imprese e agli operatori economici appartenenti a una determinata area territoriale proprio per consentire un'immediata realizzazione appunto della commessa pubblica. E sotto alcuni aspetti questo approccio potrebbe ritenersi anche in sintonia con l'esigenza di garantire una fighera corta che peraltro si conforma anche ad alcuni obiettivi ambientali che sono espressamente valorizzati dalla disciplina generale del codice dei contratti che abbiamo visto considera sotto varie forme il rilevo che può essere attribuito ai cosiddetti appalti ai parti verdi. Al di là di queste contrapposizioni che adesso di approccio che adesso proveremo a chiarire possiamo comunque avere una qualche certezza nel senso che questo principio sembrerebbe applicarsi solamente nell'ipotesi in cui ci siano dei margini di discrezionalità in capo all'amministrazione procedente. Nel senso solo nell'ipotesi in cui l'amministrazione procedente possa abbia effettivamente un potere di scelta sugli operatori economici da invitare alle procedure. pertanto questo principio non dovrebbe applicarsi in tutti i casi in cui l'amministrazione benché possa ricorrere con procedure negoziata decida ugualmente di ricorrere a procedure aperte e non si applica neanche nei casi in cui l'amministrazione non interviene discrezionalmente per ridurre il numero dei partecipanti ma si affida a strumenti diversi come ad esempio il sorteggio delle imprese. Però venendo alla questione su quali siano effettivamente gli ambiti, la portata precettiva di questo principio, posso dirvi che è intervenuto un parere del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti che ha cercato appunto di chiarire alcune anomalie e ambiguità che caratterizzano questo criterio della diversa dislocazione territoriale. In questo parere si ritiene che questo criterio sia effettivamente finalizzata ad attenuare la discrezionalità dell'amministrazione nella scelta degli operatori economici e al contempo però si afferma che questo criterio serva per favorire una ripresa economica del mercato che è particolarmente frustrato da particolari condizioni e in questo senso si ritiene che la distanza della sede legale operativa dell'impresa rispetto al luogo in cui deve essere eseguita la prestazione unitamente all'esigenza di limitare gli spostamenti nel periodo emergenziale che potrebbe legittimare un confinamento degli inviti a imprese provenienti da una determinata area territoriale e ciò proprio perché questo principio è finalizzato a rilanciare le economie e accelerare gli investimenti. Però si chiarisce anche in questo parere che questo principio non può essere utilizzato strumentalmente per favorire le imprese del territorio e quindi si conclude in questo parere che questo principio deve essere sempre motivato e deve essere adottato nel rispetto appunto della trasparenza. Solo attraverso un'attenta motivazione si potrà delimitare l'ambito degli operatori da invitare però in modo proporzionale e tenendo conto non solo del luogo di esecuzione dell'appalto ma anche delle caratteristiche dell'oggetto dell'appalto dell'appalto medesimo. Tuttavia in questo stesso parere come un colpo al cerchio e un colpo alla botte si chiarisce che la stazione appaltante dovrà evitare di concentrare gli inviti agli operatori provenienti da una determinata area territoriale perché la stazione appaltante è comunque tenuta al rispetto del principio di parità di trattamento e di non discriminazione richiamato anche dalla disciplina che ha introdotto questo principio e quindi anche nell'eventualità in cui voglia estendere oppure tener conto della vicinanza territoriale degli operatori economici è tenuta comunque ad invitare operatori economici che abbiano sede agli fuori del territorio di riferimento. Letto secondo un approccio sostanziale mi sembra che questo intervento del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti non abbia alcun contenuto precettivo nel senso che non ci indica effettivamente fino a che punto questo principio può essere vincolante per l'amministrazione e quindi è possibile dubitare sull'effettiva portata precettiva di questo richiamo per cui le amministrazioni devono tener conto della diversa dislocazione territoriale degli inviti. però abbiamo anche un dato rilevante nel senso che è lo stesso registratore che non declina in concreto il principio ma lo rimette alla discrezionalità della stazione appaltante. Quindi è la stazione appaltante che quando effettua gli inviti dovrà motivare attentamente se ci siano appunto una serie di variabili che giustificano effettivamente una preferenza ad un numero di inviti maggiore ad esempio delle imprese che sono localizzate nell'area di riferimento e questa motivazione dovrà tener conto di una serie di fattori come l'incidenza dei costi organizzativi legati al luogo dell'esecuzione, alla distanza del luogo dell'esecuzione alle prestazioni, alle interferenze che potrebbero prodursi sulle tempistiche di esecuzione, all'oggetto della prestazione e al valore dell'affidamento e soprattutto al contesto del mercato di riferimento in funzione anche della potenziale rilevanza trasfrontaliera nazionale, regionale o locale del contratto da affidare che potrebbe giustificare o all'opposto non giustificare alcun trattamento privilegiato rispetto alle imprese localizzate in una determinata area territoriale. Con ciò chiariti gli aspetti che erano rimasti da affrontare rispetto alla tematica della contrattualistica pubblica possiamo avviare la discussione sul secondo tema di questi seminari che era quello dedicato agli aiuti di Stato. Gli aiuti di Stato è una materia, quella degli aiuti di Stato, che ha una indubbia centralità in tutto il processo di integrazione europea che è finalizzato a creare un mercato unico e il presupposto teorico che sta a fondamento della disciplina sugli aiuti di Stato o meglio sul divieto degli aiuti di Stato è quello di evitare che gli stati membri prevalentemente con comportamenti protezionistici possano falsare il confronto concorrenziale per favorire le proprie imprese nazionali a discapito degli altri stati membri che operano all'interno del mercato comune. In questo senso si può dire che la disciplina degli aiuti di Stato è proprio una delle architravi fondamentali per la costruzione del mercato unico, tant'è che il divieto era previsto sin dal trattato del 1957 e poi è stato riprodotto in tutti i successivi trattati fino a rientrare nell'ambito delle competenze naturali dell'Unione Europea che è chiamata le definizioni delle regole della concorrenza necessarie al funzionamento del mercato interno. Queste regole della concorrenza non potrebbero essere effettivamente garantite se si consentisse ad alcuni stati di intervenire con aiuti, sovvenzioni finanziarie a determinate imprese perché queste imprese sarebbero fisiologicamente favorite rispetto ad altre imprese di altri stati che non disporrebbero di uguali strumenti. Questa disciplina degli aiuti di Stato, benché abbastanza risalente, ha però avuto un'applicazione poco costante, nel senso che c'è stato un primo periodo storico in cui l'applicazione di questa disciplina è stata abbastanza sporadica e mentre abbiamo un secondo periodo in cui è stata applicata in modo molto rigoroso che è il periodo a partire dagli anni 80-90 per intenderci il periodo in cui la logica del mercato si è imposta ed è stata la matrice di profonde innovazioni istituzionali che poi sono combinate nei processi di privatizzazione e di liberalizzazione che hanno caratterizzato questo periodo. E poi abbiamo una terza fase in cui diciamo l'applicazione di questo divieto degli aiuti di Stato in modo rigoroso potrebbe compromettere effettivamente alcuni obiettivi non di politica economica anche obiettivi sociali propri degli stati membri. Ed è diciamo questa terza fase in cui si è ricominciato a rivedere l'approccio sugli aiuti di Stato e iniziato con quel fenomeno della grande recessione dove si è dimostrata sono emerse diciamo più evidentemente alcune incongruenze del processo di integrazione europea. L'ultima fase che è quella diciamo caratterizzata dal contesto emergenziale legato alla pandemia è quella del temporale framework ossia del quadro temporaneo degli aiuti che è stato avviato a partire dal 2020 e che introduce alcune regole decisamente più permissive che servono per far fronte all'attuale stato di emergenza pandemica. Io ve lo dico perché la disciplina sugli aiuti di Stato o meglio sul divieto degli aiuti di Stato è una disciplina che non riscontra sempre dei grandi consensi nella letteratura sia di stampo giuridico sia soprattutto di stampo economico. Anzi soprattutto la letteratura di stampo economico ritiene che siano eccessivi i costi della regolazione appunto degli aiuti di Stato e in alcuni ordinamenti si è ritenuto anche ispirati da una logica federale simile a quella dell'Unione Europea vi sono varie correnti di pensiero che ritengono che sia superflua ogni diretto in materia di aiuti di Stato. Ciò che è sicuramente emerso soprattutto nel corso delle crisi economiche che si sono accedute negli ultimi anni è che questa disciplina del mercato che ha caratterizzato le istituzioni europee ha un po' tradito lo spirito iniziale che doveva caratterizzare l'intervento o meglio il processo di integrazione europea che si diceva un tempo era orientato all'idea che le istituzioni europee non fanno ma fanno fare ma ultimamente proprio in funzione di queste crisi economiche questo principio, questo criterio spiegatore si era tradotto in un altro criterio per cui le istituzioni europee non fanno e non fanno fare nel senso che tutta una serie di strumenti di cui disponevano gli Stati per far fronte ad una serie di crisi economiche quale per esempio la leva monetaria, gli aiuti di Stato e più in generale l'intervento pubblico nell'economia sono strumenti non più consentiti per effetto del processo di integrazione europea soltanto che questi strumenti che caratterizzavano il ruolo economico dei pubblici poteri sono stati persi dagli Stati nazionali ma non sono stati assunti a livello sovranazionale dalle istituzioni europee quindi si è detto che una serie di funzioni anticicliche che avevano gli Stati sono state semplicemente perso e si è generato un vuoto di competenze perché ci stanno funzioni economiche che oggi non spettano né agli Stati membri perché incontrano una serie di limitazioni nell'ambito della disciplina e dei trattati né all'Unione Europea e proprio la constatazione di queste anomalie ha introdotto un allentamento di questi vincoli o comunque è la matrice di qualche cambiamento più significativo che adesso stiamo riscontrando soprattutto con le misure che caratterizzano sia il temporale framework per quanto riguarda la disciplina degli aiuti di Stato sia la disciplina del PNRR ossia di quella quota di investimenti che vengono concessi direttamente a valere sul bilancio dell'Unione Europea comunque tornando in concreto al divieto degli aiuti di Stato questo noi lo troviamo adesso consacrato nell'articolo 107 del Trattato sul funzionamento dell'Unione Europea che ci dice che salvo le errori contemplate nei trattati sono incompatibili con il mercato interno nella misura in cui incidano sugli scambi tra Stati membri gli aiuti concessi dagli Stati ovvero mediante risorse statali sotto qualsiasi forma che favorendo talune imprese o talune produzioni falsino o minaccino di falsare la concorrenza quindi qui vediamo questa nozione come definita nell'articolo 107 del Trattato sul funzionamento dell'Unione Europea già contiene tutti gli elementi identificativi di questa nozione di aiuto di Stato e dell'estensione generale della portata di questo divieto la nozione infatti di aiuti di Stato è una nozione che assume che il beneficiario appunto di questa misura deve essere qualificato come impresa ci deve essere un finanziamento che è concesso dallo Stato o con risorse statali questo finanziamento conferisce un vantaggio a talune imprese o talune produzioni e questo finanziamento ha un'incidenza sugli scambi fra gli Stati membri e falsa o minaccia di falsare la concorrenza la particolarità di questa nozione è che è una nozione che si ricava direttamente dai trattati e quindi per interpretare tutti gli elementi che qualificano la nozione di aiuto di Stato e l'estensione del relativo divieto noi dobbiamo far riferimento esclusivamente alla disciplina contenuta nei trattati o alla relativa giurisprudenza che ha contribuito a definirne la portata secondo questa nozione o meglio secondo gli elementi identificati da questa nozione non sono rilevanti le finalità o i motivi per cui uno Stato membro si è determinato nella concessione di una determinata sovvenzione mentre ciò che è rilevante è proprio l'effetto che produce questa sovvenzione ossia che incide sugli scambi fra gli Stati membri e quindi sulla concorrenza perché determina un qualche effetto un qualche vantaggio competitivo a favore di qualche impresa magari dislocata in un determinato Stato che sarà avvantaggiata nel confronto competitivo con imprese che trovino una diversa dislocazione ognuno di questi elementi della nozione può essere declinato ulteriormente e deve essere declinato in funzione delle acquisizioni della giurisprudenza europea e delle stesse nozioni europee e quindi il primo elemento che dobbiamo chiarire è quello individuato dalla nozione che ci dice e sono incompatibili con il mercato interno quegli aiuti che favoriscano talune imprese bisogna capire in primo luogo quando è che il beneficiale è qualificabile come impresa e qui abbiamo già un primo ostacolo nella definizione di questo aiuto di Stato perché la normativa europea non chiarisce, non fornisce direttamente in sede di trattati né in sede di disciplina derivata quale sia il significato da attribuire al termine impresa noi accanto al nostro siamo abituati a ragionare secondo una dimensione della nozione nazionale di impresa che all'interno del nostro ordinamento è definita indirettamente attraverso la figura dell'imprenditore e trova la propria disciplina nell'articolo 2082 del codice civile per cui è imprenditore che esercita professionalmente un'attività economica organizzata al fine della produzione o dello scambio di beni e servizi qui questa nozione nell'ambito interno è stata molto dibattuta rispetto agli elementi identificativi e quali di essi potessero essere considerati effettivamente presupposti essenziali della nozione di impresa e in questo senso si faceva riferimento alla professionalità appunto dell'attività economica intesa come stabilità e abitualità appunto della stessa si riteneva che questa attività economica come dice l'articolo 2082 deve essere organizzata e quindi in che termini rileva questa organizzazione se rileva anche come un'organizzazione del lavoro propria simile a quella del professionista o organizzazione necessariamente del lavoro altrui c'erano anche dei dibattiti sul requisito dell'economicità o meglio nel senso se questo fosse o meno comprensivo appunto della finalità di lucro o potesse essere considerato che era l'opinione prevalente nel suo contenuto più minimale ossia di un'attività che si alimenta con i propri ricavi e poi c'era un elemento che veniva considerato pleonastico e in un certo senso implicito che era quello che l'attività doveva essere finalizzata alla produzione o lo scambio di determinati bene e servizi tutti questi problemi di identificazione che hanno diciamo e continuano interessato e continuano a interessare soprattutto la dottrina giuscommercialista in realtà non si producono all'interno per l'identificazione della nozione di impresa valevole ai fini dell'applicazione della disciplina sugli aiuti di Stato perché ovviamente l'esigenza da cui muovono le istituzioni europee è quella di fornire una nozione che sia liberamente esportabile al di là di ogni specificità nazionale quindi una nozione che sia valevole tanto in Italia come in Francia in Germania e via dicendo quindi è in un certo senso fisiologico che le istituzioni europee abbiano adottato una nozione diciamo molto più ampia rispetto a quelle che sono le nozioni nazionali e considerano impresa come un qualsiasi ente che esercita un'attività economica e se ragioniamo in questi termini se consideriamo impresa ai fini del destinatario dell'aiuto qualsiasi ente che esercita un'attività economica ovviamente noi dobbiamo prescindere da elementi di tipo formale quale potrebbe essere lo status giuridico dell'impresa non è importante che questa impresa sia una società di capitali non è importante che sia un'associazione o un organismo privo di personalità giuridica e abbiamo in tal senso delle pronunce in realtà già molto datate che ci dicono che anche l'amministrazione autonoma dei monopoli di stato priva di personalità giuridica poteva essere considerata ai fini appunto della disciplina europea come un soggetto che esercita un'attività economica e che quindi può essere considerato come impresa indipendentemente dalla sua appartenenza alla pubblica amministrazione in senso tradizionale e indipendentemente dagli strumenti strumenti utilizzati che si compendiano non solo gli strumenti economici ma anche gli strumenti di natura autoritativa e altresì ci dice la giurisprudenza europea in influente che un ente sia stato istituito per conseguire degli utili e quindi anche enti senza fini di lucro possono essere considerati in presa ai sensi della disciplina europea e ciò vale sia per alcune organizzazioni no profit sia per associazioni ma anche come dicevo anche per alcune articolazioni più o meno indirette della pubblica amministrazione e se ciò che rileva è per qualificare la nozione di impresa è un'attività economica vi possono essere anche soggetti che esercitano se vi è un soggetto che esercita attività economiche e che esercita anche attività non economiche è considerato in presa solo per quanto riguarda le prime attività e ciò comporta tutta una serie di accorgimenti rispetto ad alcuni obblighi che potrebbero sorgere di separazione contabile o di non comunicabilità fra attività economiche e non economiche che possono caratterizzare l'operatività di un determinato soggetto quindi però abbiamo detto che la nozione di impresa abbraccia qualsiasi ente che esercita un'attività economica adesso però sembra semplicemente spostare i termini del quesito ad un'altra domanda che cos'è un'attività economica ai sensi della disciplina europea e qui diciamo la nozione è estremamente ampia nel senso che ci dice la giurisprudenza europea che è attività economica qualsiasi attività consistente nell'offrire beni e servizi in un mercato quindi raffrontando diciamo la nozione di impresa valevole a livello europeo con la nozione di impresa ricavabile dall'articolo 2082 del codice civile diciamo che proprio l'elemento che è stato ritenuto preonastico e quasi sovrabbondante ossia quello dell'attività produttiva che offre beni e servizi in realtà è proprio l'unico elemento identificativo dell'attività economica che rileva ai fini dell'attribuzione della qualità di impresa un discorso più complesso e perché la lettura delle istituzioni europee presuppone comunque che questi beni e servizi vengano offerti su un mercato di riferimento e qui la questione di capire se esiste o meno un determinato mercato è una questione che non può essere risolta in astratto ma valutato in concreto a seconda di come sono organizzate il commercio o la produzione di servizi all'interno di determinati servizi all'interno di uno stato membro e quindi presuppone sempre un'analisi del caso concreto ad esempio i servizi sociali possono essere strutturati con o senza rilevanza economica nel primo caso c'è un mercato di riferimento nel secondo caso non c'è un mercato di riferimento e in questi casi potrebbe non essere considerata come un'impresa un soggetto che opera all'interno appunto di questo settore perché se non c'è una rilevanza economica dell'attività non c'è un mercato da tutelare non c'è un problema di tutela della concorrenza e quindi non c'è necessariamente neanche un problema di aiuti di Stato che possono alterare questa concorrenza diciamo che la distinzione tra attività economica è una distinzione che rileva soprattutto in contrapposizione a quella che le istituzioni europee chiamano attività di imperio secondo la terminologia nazionale che potremmo chiamare più correttamente come attività autoritative però queste attività è ovvio che nella contrapposizione di queste attività è indifferente la natura pubblica o privata dell'impresa perché questa nozione è una nozione effettivamente molto ampia proprio per chiarire alcuni dei dubbi interpretativi che possono derivare dall'identificazione di questa attività economica in generale le istituzioni europee hanno ritenuto che vi sono alcune attività che in linea di principio non dovrebbero essere considerate come attività economiche a meno che uno stato membro abbia deciso di introdurre meccanismi di mercato e qui si tratta di quelle attività che sono le attività diciamo più strettamente legate alle prerogative pubblicistiche che caratterizzano diciamo le funzioni degli stati come le forze armate le forze pubblica sicurezza e altri attività di controllo a stretta matrice pubblicistica e in questo caso dovremmo sapere che trattandosi di attività di questi caratteri la restituzione europea già hanno operato una preventiva valutazione dicendo che in linea di principio queste non costituiscono oggetto del mercato e quindi non possono essere considerate attività di impresa rilevanti sempre che non intervengano dei meccanismi che hanno voluto creare il mercato anche all'interno di questi contesti per esempio alcune attività legate alle forze armate o le forze di pubblica sicurezza o all'esecuzione per esempio delle sentenze di reclusione in alcuni ordinamenti sappiamo che sono gestite da imprese private che lo fanno secondo uno con obiettivi economici e in questi casi a seconda degli interventi con cui lo Stato membro ha regolato lo svolgimento di queste attività anche in questi ambiti potrebbero esserci potrebbe esserci un'attività economica e quindi un'impresa che potrebbe essere avvantaggiata eventualmente dalla concessione di aiuti di Stato ma qui rientriamo in ambiti che sono di stretta pertinenza dello Stato membro perché è lo Stato membro che può decidere nell'ambito della propria sovranità come strutturare diciamo l'offerta di determinati beni e servizi e quindi se attribuirgli delle connotazioni di carattere economico o meno questo quindi era il primo requisito dell'attività economica veniamo quindi adesso al secondo requisito che è quello dell'origine statale del vantaggio che presuppone dichiarire se questo vantaggio l'imputabilità di questa misura è effettivamente riconducibile allo Stato o alle sue articolazioni territoriali quindi anche regioni e enti locali e addirittura le sue articolazioni funzionali e non penso solo a enti pubblici di chilevo statale regionale o via dicendo ma anche a particolari tipologie di autorità di imprese pubbliche o di autorità private che sono state magari incaricate di gestire una determinata solvenzione una determinata appunto misura di aiuto qui l'imputabilità ovviamente della misura allo Stato di riferimento è più chiara quando avvenga nei confronti avvenga sia diciamo riconducibile che pubbliche amministrazioni tradizionali mentre invece diventa un po' più complessa quando le pubbliche amministrazioni agiscano a mezzo di imprese pubbliche o di altri organismi e qui la giurisprudenza europea ha elaborato una serie di indizi di cui bisogna tener conto per capire se l'imputabilità appunto di questa misura sia effettivamente riconducibile allo Stato e bisogna chiedersi se l'organismo che ha disposto questa misura poteva decidere di non adottare di non adottarla senza tener conto delle esigenze che hanno state avanzate dai pubblici poteri bisogna chiedersi esistono dei legami organici fra l'impresa pubblica che ha adottato la misura e lo Stato e lo Stato l'impresa quando ha concesso questa misura lo ha fatto in forza di direttive che sono state impartite dagli organismi pubblici questa impresa è integrata nella struttura dell'amministrazione pubblica pensiamo ad una società in house qual è l'intensità del controllo che esercitano le autorità pubbliche su questa impresa che ha concesso l'aiuto questi sono solamente alcuni degli indizi che possono essere diciamo utilizzati per ricavare l'imputabilità appunto della misura allo Stato o alle sue articolazioni dico le sue articolazioni perché c'è un principio più o meno implicito che è quello il principio dell'unicità appunto dell'esecutivo per cui tutto poi viene ricondotto ad unità sotto diciamo la personalità dello Stato e la giurisprudenza europea ha individuato una serie di indici che sono quelli qui riportati che consentono di individuare questa imputabilità della scelta di concedere questo beneficio allo Stato o ad una sua articolazione l'altro componente di questa origine statale del vantaggio invece la vediamo sotto un profilo più materialistico ossia quello delle risorse impiegate qui ci devono essere delle risorse statali risorse statali ovviamente o di altri soggetti appartenenti al settore pubblico allargato o in determinati casi quindi anche risorse di enti privati o imprese pubbliche qual è la forma in cui devono essere attribuite queste risorse e le forme più disparate possono essere sovvenzioni dirette prestiti investimenti nel capitale di determinate imprese o addirittura anche l'offerta di qualche forma di garanzia statale magari la soluzibilità di qualche impresa ma abbiamo sia degli interventi che rilevano come risorse statali e quelli che dispongono un trasferimento diretto attivo di fondi sia altre forme che possono essere indirette che comportino comunque una rinuncia a risorse statali attraverso dei particolari benefici fiscali o delle forme di sottrazione agli obblighi di contribuzione obbligatoria magari nel settore previdenziale anche l'offerta di beni e servizi a prezzi inferiori a quelli praticati dal mercato può costituire un aiuto a cui si è fatto fronto mediante risorse statali perché lo Stato offrendo un bene o un servizio a un prezzo inferiore da quello di mercato sostanzialmente rinuncia implicitamente a una quantità appunto delle risorse impiegate e in questo contesto possono rilevare le più sbagliate soluzioni per cui anche l'accesso ad un demanio pubblico o a risorse naturali può essere considerato come un aiuto concesso mediante risorse statali e in alcune circostanze in alcuni contesti su cui però vengono delle regole speciali pensiamo al ruolo delle agenzie di rating e alcuni particolari meccanismi del settore finanziario anche un impegno fermo e concreto a rendere disponibili delle risorse statali anche se poi dopo non vi si dirà seguito può essere considerato come un aiuto rilevante ai sensi della disciplina europea quindi origine statale del vantaggio che va articolata in rapporto all'imputabilità della misura dello Stato e quindi guardando al potere decisionale che abbiamo a monte e l'altro elemento quello oggettivo rispetto all'impiego di risorse statali e quindi che può essere realizzato direttamente o indirettamente attraverso una rinuncia a risorse statali l'altro requisito individuato dalla disciplina di riferimento è quella del cosiddetto vantaggio a taluna imprese o produzioni qui questo criterio è quello che normalmente viene definito come la selettività appunto della misura questo vantaggio viene concesso solamente ad alcune categorie di imprese o a determinate imprese o alcuni settori economici e in questo termine è selettivo perché seleziona alcuni ed esclude evidentemente altri misure invece di carattere generale che sono valevoli per tutti gli operatori difettano di questo requisito quindi proprio in assenza del criterio della selettività si potrebbe ritenere che siamo in presenza della disciplina di un fenomeno rilevante ai sensi degli aiuti di Stato questa selettività della misura si può realizzare in tanti modi può essere una selettività di diritto diciamo evidente per esempio l'aiuto viene riservato ad imprese di una certa dimensione che operano in alcuni settori o che abbiano una determinata forma giuridica per esempio solo SRL anziché società per azioni oppure ci può essere una selettività di fatto cioè che dipende da condizioni implicite che sono state predisposte nella definizione dei presupposti per l'accesso alla sovvenzione pubblica e ad esempio la concessione di una misura fiscale solo a favore di investimenti che superano una determinata soglia di fatto restringe la platea dei potenziali beneficiali a quelle imprese che siano imprese di grandi dimensioni e quindi con grandi disponibilità finanziarie altre volte invece la selettività è discrezionale quando sottende una valutazione diciamo dell'amministrazione concedente per esempio i benefici degli aiuti vengono selezionati in base alle caratteristiche appunto di un determinato progetto questo discorso sulla selettività della misura è un discorso molto delicato anche il rapporto a eventuali settori collaterali che possono essere diciamo condizionati da una decisione di aiuto pensiamo ad esempio al rapporto fra il trasporto aereo e il trasporto ferroviario su alcune tratte ad esempio Roma-Milano dove le tempistiche diciamo di spostamento sono diciamo sostanzialmente equivalenti o quantomeno comparabili delle sovvenzioni al trasporto ferroviario determinerebbero evidentemente un effetto pregiudizievole per operatori che sono di un settore concorrente quello del trasporto aereo e viceversa quindi bisogna valutare attentamente l'entità e gli effetti di queste misure proprio per questo motivo l'altro requisito che è quello diciamo più più importante è che queste per essere considerate aiuti di Stato queste misure concesse ad imprese di modo selettivo con risorse statali e con decisioni imputabili allo Stato devono essere delle misure che falsano o minacciano di falsare la concorrenza qui stiamo guardando l'effetto della misura e l'effetto della misura è quella di determinare un miglioramento della posizione concorrenziale del beneficiario di questa misura stessa rispetto ad una alle altre imprese concorrenti che significa poi che queste misure incidono sugli scambi fra i Paesi membri che significa che devono avere un qualche effetto di rafforzare la posizione di un'impresa rispetto alle imprese concorrenti che possono appartenere agli Stati membri però non si richiede che vi debba essere effettivamente un effetto diretto sugli scambi trasfrontalieri per cui diminuiscono gli scambi trasfrontalieri o aumentano gli scambi trasfrontalieri per effetto dell'aiuto l'aiuto può avere un'incidenza sugli scambi fra i Paesi membri anche se consente ad un determinato operatore di mantenere inalterata la propria posizione economica nel Paese di riferimento la propria quota di mercato nel Paese di riferimento o consente addirittura di incrementare magari un'offerta che è strettamente locale in questo caso si ritiene appunto che le misure incidono effettivamente sugli scambi fra i Paesi membri qui l'interpretazione della commissione rispetto a queste misure diciamo ha individuato alcune caratteristiche in cui l'incidenza sugli scambi fra i Paesi membri è da escludere soprattutto in funzione del rilievo strettamente locale di alcune attività economiche e ciò è avvenuto ad esempio rispetto ad alcune piscine ospitali musei o eventi culturali che avevano diciamo un'attenzione a livello avevano una platea un mercato sostanzialmente locale qui un inciso su queste misure che hanno un'incidenza locale però bisogna tenere conto di alcuni problemi che derivano dall'esatta individuazione delle competenze legislative e regolamentari e amministrative che sono state riformate con il titolo quinto della Costituzione in quanto già diciamo le competenze legislative statali introducono un qualche limite ad iniziative regionali e anche locali rispetto alla concessione di aiuti localizzati nel territorio allora questi sono gli aiuti questi sono gli elementi identificativi della nozione di aiuto di Stato e in questo caso l'aiuto è incompatibile con il mercato e ciò ce lo dice direttamente il trattato sul funzionamento dell'Unione Europea ma il trattato sul funzionamento dell'Unione Europea prevede però dei casi in cui gli aiuti possono essere considerati compatibili anzi per essere più precisi prevede dei casi in cui gli aiuti sono compatibili ex legge con il trattato che sono e si affiancano ad altri casi in cui gli aiuti possono essere considerati compatibili con il mercato questi casi sono individuati i casi di compatibilità ex legge al paragrafo 2 dell'articolo 107 del trattato che ci dice che sono compatibili con il mercato comune gli aiuti a carattere sociale concessi a singoli consumatori purché siano accordati senza discriminazioni determinate dall'origine dei prodotti per esempio un aiuto di questo tipo è quello della social card una misura economica che è stata introdotta qualche anni fa che poteva essere legittima purché non imponesse l'utilizzo appunto di la spesa diciamo di quella provvista finanziaria solamente in favore di imprese nazionali o di imprese locali e quindi non fosse discriminante sotto il profilo dell'origine dei prodotti sono considerati sempre compatibili con il mercato gli aiuti destinati a uviare i danni delle calamità naturali oppure ad altri eventi eccezionali e vedremo adesso che questa norma è particolarmente rilevante nell'attuale contesto storico mentre decisamente meno attuale è la questa compatibilità ex legge degli aiuti concessi a determinate regioni della Repubblica federale tedesca che diciamo sono ancora il retaggio di alcune anomalie storiche del processo di integrazione europea in cui si voleva comunque consentire alla Germania di poter compensare i danni derivanti dalla divisione a fianco a queste ipotesi di compatibilità ex legge ci stanno delle altre ipotesi di compatibilità relativa o iuristantum cioè che possono essere concesse e queste ipotesi sono disciplinate dal paragrafo 3 dell'articolo 107 e che contempla i casi in cui gli aiuti siano destinati a favorire lo sviluppo economico di regioni con un tenore di vita anormalmente basso oppure che siano affette da una grave forma di sottooccupazione aiuti destinati alla realizzazione di un progetto comune di interesse europeo pensiamo ad alcuni interventi nella cantieristica aerea che sono stati disposti dalle istituzioni europeo oppure che sono rivolti a porre rimedio a un grave turbamento nell'economia di uno stato membro e anche questa seconda ipotesi prevede alcune analogie rispetto alla situazione attuale e gli aiuti che possono essere destinati ad agevolare lo sviluppo di talune attività o di talune regioni economiche nonché gli aiuti destinati alla cultura conservazione appunto del patrimonio e poi con una clausola di chiusura tutte le altre categorie di aiuti che sono state definite tali con una decisione del consiglio su proposta appunto della commissione quindi abbiamo delle ipotesi di compatibilità relativa di aiuti regionali per esempio per alcune regioni particolarmente disagiate come il mezzogiorno alcune aiuti settoriali che sono finalizzati al rafforzamento di alcune attività impenditoriali e alcuni aiuti che possono essere di carattere orizzontale che interessano tutti i settori fra questi aiuti gli aiuti dell'ultima categoria possiamo richiamare i cosiddetti aiuti de minimis e qui c'è un regolamento che disciplina proprio questi aiuti de minimis che sono aiuti di un importo sostanzialmente contenuto che sono dispensati da un obbligo di notifica che vedremo a breve caratterizza tutte queste misure purché si rientri entro determinati limiti quantitativi in un importo prestabilito prestabilito entro un determinato periodo di tempo importo che è di 200 mila euro nell'arco di tre esercizi finanziari che però subisce delle differenziazioni rispetto ad alcuni settori come il settore del trasporto su merci in cui è a monte a sole 100 mila euro una particolarità rispetto all'applicazione di questi aiuti è che bisogna tener conto della posizione dell'impresa come un'unica impresa quando anche la stessa sia articolata in più organismi apparentemente separati e qui diciamo le istituzioni europee hanno individuato una serie di criteri affinché entità apparentemente formalmente distinte possano essere ricondotte ad unità sotto il profilo economico per valutare il raggiungimento dei limiti dimensionali di questi aiuti dei minimis e sono diciamo una serie di requisiti di ordine strutturale o proprietario che fanno capire che in realtà le imprese varie imprese operano come se si trattasse di un unico centro economico di riferimento secondo meccanismi che sono molto simili a quelli che ritroviamo nell'ambito interno rispetto all'attività dei cosiddetti gruppi di imprese che adesso è disciplinata dagli articoli 2497 del codice civile come attività di direzione e coordinamento di società il problema degli aiuti dei minimis è proprio quello del raggiungimento appunto dei limiti del quantitativo massimo di aiuto che può essere conferito e nella valutazione di questi limiti proprio in applicazione di questa nozione sostanziale di unità economica di riferimento bisognerà tener conto anche di eventuali processi di fusione o di scissione delle imprese che abbiano già beneficiato degli aiuti in modo che le imprese che seguiranno a questi eventi societari dovranno tenere necessariamente conto di questi eventi e dei contributi che sono stati già concessi i settori in cui si applica questo regolamento sugli aiuti dei minimis sono definiti con alcune differenziazioni per quanto riguarda i prodotti agricoli nel senso la produzione di prodotti agricoli nonché la trasformazione e commercializzazione di prodotti agricoli e per questi settori non si applicano le regole stabilite appunto da questo regolamento che invece trova applicazione generale in tutti gli altri proprio per il suo carattere orizzontale in tutti gli altri settori obiettivamente ci possono essere e vi sono delle difficoltà quando vi sono imprese che sono operanti in più settori perché in questo caso bisogna tener conto bisognerebbe adottare delle misure di unbundering o di separazione fra le attività che sono potenzialmente incluse nell'ambito dell'applicazione del regolamento sugli aiuti dei minimis e le attività che invece sono escluse per effetto di una specifica disposizione regolamentale a fianco a questo regolamento dei minimis abbiamo anche un regolamento generale che determina delle forme di essenzione per categoria quindi non solo o non necessariamente in ragione dell'importo dell'aiuto ma in ragione proprio di categoria degli interventi a cui è orientato l'aiuto si tratta anche in questo caso di strumenti che sono stati positivizzati da parte appunto delle istituzioni europee e diciamo c'è una valutazione preliminare da parte delle istituzioni europee sui sulle condizioni affinché un aiuto può essere concesso in determinati settori economici anche questo regolamento di esenzione per categoria soffre delle eccezioni perché ci sono delle attività in cui non è applicabile la più evidente è l'esportazione perché gli aiuti in favore delle attività connesse all'esportazione avrebbero necessariamente un'incidenza sugli scambi fra gli stati membri e la particolarità di questo regolamento generale di esenzione per categoria è che sonera gli stati membri dà un obbligo di notifica dell'aiuto purché siano soddisfatti una serie di criteri stabiliti per ognuna appunto delle categorie in questo caso si riducono quindi gli oneri amministrativi di gestione dell'aiuto e ciò sul presupposto che alcuni aiuti se concessi in modo intelligenti ad alcuni settori economico possono essere possono fornire anche un volano per l'economia o diciamo favorire lo sviluppo tecnologico in settori che ne abbiano particolarmente bisogno l'esempio classico è degli aiuti nel settore ambientale e qui vediamo un'altra caratteristica di questi aiuti è che devono produrre un effetto incentivante sul comportamento delle imprese che significa che questi aiuti devono produrre un effetto incentivante che devono legittimare devono generare un cambio nel comportamento imprenditoriale che in difetto appunto di questi aiuti non avrebbe portato avanti alcuni sviluppi della tecnologia magari sostenibile e l'avrebbe fatto in modo diverso e ovviamente sono previsti strumenti di trasparenza per garantire la conformità di questi aiuti alle regole stabilite nel regolamento di esenzione nonché strumenti di controllo perché la commissione può sempre verificare appunto la sussistenza la corretta applicazione appunto delle regole un'altra particolarità di cui ho accennato è quella del cosiddetto temporale framework ossia di queste regole temporane che vengono applicate per consentire aiuti in questo particolare periodo di difficoltà economiche legate alla crisi pandemica in questo caso ci sono delle regole speciali che vengono sono state applicate dalla commissione e le prime regole riguardano sono state stabilite in questa comunicazione sul quadro temporaneo delle misure degli aiuti di stato che poi è stata più volte modificata che individua delle specifiche categorie di aiuti di esenzioni o comunque di aiuti che sono sottoposti ad un procedimento più agevolato per poter essere adottati il primo caso è quello che abbiamo visto prima dei cosiddetti aiuti compatibili ex legge e qui la commissione ha chiarito che la pandemia può essere considerato come un evento eccezionale esensi della lettera B dell'articolo 107 che legittima quindi la concessione di aiuti ossia questi aiuti sono compatibili con il mercato sono compatibili con il mercato ovviamente se rispettino alcune condizioni perché devono essere aiuti che sono devono essere effettivamente destinati ad ovviare ad un danno che è stato arrecato danno che può essere inteso in tutte le sue variabili che può essere legato eventualmente anche ai costi aggiuntivi imposti per l'esercizio di determinate attività o limitazioni di tipo fisico per l'esercizio di determinate attività pensiamo all'attività di ristorazione deve esserci un rapporto di causalità necessaria con l'evento pandemico nel senso questi danni devono essere prodotti proprio in ragione appunto della pandemia tant'è che il quadro temporaneo non si applica alle imprese in crisi che erano già in crisi alla data del 31 dicembre del 2019 e l'entità di queste misure non deve determinare un fenomeno di sovraccompensazione nel senso che se si tratta di un ristoro appunto del danno non possiamo conferire qualcosa di più rispetto a quello che è un ristoro oltre a queste ipotesi di compatibilità ex legge il temporale framework introduce anche delle ipotesi di compatibilità relativa ossia quella di prevista dal paragrafo 3 della lettera B e qui la base giuridica su cui si fonda questo quadro temporaneo di aiuto è quello degli aiuti destinati a porre rimedio a un grave turbamento dell'economia di uno stato membro e in questa comunicazione della commissione ogni tipologia di aiuto è suddiviso in specifici punti in cui sono indicate anche le condizioni affinché la commissione può valutare valuta preventivamente come una sorta di autovinco che esercizi appunto della propria attività che questi aiuti possono essere erogate erogate nel rispetto delle condizioni che sono stabilite dalla stessa comunicazione sul quadro temporaneo questi aiuti devono essere notificati comunque alla commissione e lo stato deve dimostrare che sono misure necessarie adeguate e proporzionate per porre rimedio proprio al turbamento che si è generato nell'economia nella propria economia interna e che sono attresi rispettate tutte le condizioni che sono state introdotte dal quadro temporaneo definito dalla commissione l'ultima ipotesi considerata dal quadro temporaneo è quella degli aiuti destinati ad agevolare lo sviluppo di alcune attività e si tratta prevalentemente di aiuti concessi proprio per attività strumentali a far fronte all'emergenza pandemica e quindi che riguardano lo sviluppo e la ricerca magari di materiali e prodotti connessi al contrasto del covid questi strumenti disposti e individuati dal quadro temporaneo non sostituiscono ma integrano gli altri strumenti di intervento consentiti in via ordinaria ossia si tratta di misure d'aiuto che possono essere cumulate sia tra loro sia possono essere cumulate con i regimi di aiuti ordinali previsti ad esempio dagli aiuti dei minimi o dai regolamenti di esenzioni per categoria un'ultima indicazione rispetto a questo quadro temporaneo degli aiuti riguarda delle potenziali interferenze con il PNRR perché le istituzioni europee si sono preoccupate appunto di chiarire che entro determinati limiti l'assegnazione dei fondi una volta che l'Unione Europea assegna determinati fondi agli stati membri se gli stati membri decidono di adottare le misure di attuazione del piano nazionale di ripresa e resilienza attraverso degli aiuti queste risorse già dal momento del trasferimento dall'Unione Europea allo stato membro diventano risorse statali e pertanto possono costituire aiuti e la concessione di queste risorse soggiace naturalmente alle regole generali previste dagli articoli 107 seguenti del trattato sul funzionamento dell'Unione Europea in tali casi ossia nell'eventualità in cui gli stati membri decidano di utilizzare le risorse del PNRR per concedere aiuti dovranno rispettare tutte le regole previste dagli aiuti e questo ce lo ricorda anche il regolamento 241 del 2021 ossia il dispositivo per la ripresa e la resilienza e le misure devono essere notificate e approvate dalla commissione prima che gli stati membri possano concedere l'aiuto e a tal fine già la commissione ha stabilito dei propri modelli di orientamento specifico che dovranno governare diciamo gli stati membri nell'elaborazione di piani nazionali che prevedono l'erogazione di aiuti e quindi ha già stabilito dei modelli e degli orientamenti settoriali in cui viene definito quando è quando la presenza di un aiuto di Stato può essere escluso e casi in cui ci sarebbe un aiuto di Stato ma non è necessaria una notifica perché si rientra nell'ambito di esenzioni per categoria e casi in cui invece c'è un aiuto di Stato a tutti gli effetti e per cui e pertanto è necessaria una notifica a tutti gli effetti in caso di dubbi ovviamente lo Stato è tenuto a notificare la misura alla commissione europea e a segnalarlo per il PNRR ma un'indicazione importante è che l'analisi degli aiuti di Stato che viene effettuata che è stata effettuata dallo Stato nella elaborazione del proprio piano nazionale non può essere equiparata in nessun senso alla notifica condotta ai sensi dell'articolo 108 del trattato sul funzionamento dell'Unione Europea e parallelamente anche l'approvazione del piano nazionale da parte delle istituzioni europee non può essere equiparata ad una decisione di compatibilità della misura ai sensi della disciplina d'aiuti per cui la misura necessita sempre di una di una approvazione espressa ai sensi della disciplina degli aiuti allora scusatemi io mi sono reso conto che non ho fatto la pausa forse sono stato travolto dagli eventi non so se Maria Cosaglia forse se vogliamo dare più che una pausa si un po' di respiro perché non so se i colleghi hanno diciamo afferrato tutti i concetti se vogliono porre delle domande perché appunto finalmente abbiamo un attimo diciamo di coinvolgimento cerchiamo di trovare un momento di coinvolgimento con il nostro parterre quindi chiedo ai colleghi che sono appunto 45 colleghi che sono qui riuniti intorno a questo webinar se fino ad ora hanno dei dubbi delle perplessità e vogliono quindi intervenire aspettiamo qualche attimo vediamo un po' se ci sono delle domande io credo che appunto il tema magari per alcuni come sempre succede in queste in queste sessioni sarà molto conosciuto da alcuni probabilmente molto meno da altri quindi ci sarà sicuramente qualche domanda che vorranno porre i nostri i nostri partecipanti ma a quanto pare non ci sono è un tema che è tecnico e quindi c'è il rischio che per chi è che ha il primo approccio può sembrare molto complesso sull'FSC ci sono stati diciamo diversi interventi covid e quindi probabilmente anche i colleghi hanno avuto già a che fare con questa materia e ci sarebbe piacere anche sapere come alcune problematiche sono state risolte e negoziate però vogliono intervenire magari anche qualche collega che scriva che è tutto chiaro che ci dia segno di vita noi appunto lo ringraziamo perché così sappiamo che effettivamente dall'altro lato dell'aula visto che non abbiamo la possibilità di vedere i video di tutti i partecipanti sappiamo che però ci sono delle persone attente e che diciamo seguono la lezione allora Giovanni Masciarelli grazie ringraziamo per andare avanti ok grazie anche a Giovanni Brindisi che ci scrive grazie Monica Taddei ok allora Giovanni se te la senti che non hai bisogno di un bicchiere d'acqua a questo punto va bene continuiamo a questo punto continuiamo perché effettivamente qui ci stanno più esigezze perché per alcuni è troppo tecnico per altri sarà superficiale però sì poi appunto come abbiamo detto comunque visto che le registrazioni sono sempre sul sito di eventi PA e ora le metteremo poi un'aga diciamo in una sezione e-learning dedicata i colleghi potranno in qualsiasi momento rivedere la registrazione e ora a breve scriverò anche l'indirizzo al quale nel caso possono contattarmi per eventuali appunto prosegui quindi concordare poi dei focus group diciamo dedicati io mi taccio ti lascio una parola grazie mille Maria Rosaria ovviamente poi se ci stanno esigenze di approfondimento più dettagliato su alcuni aspetti proprio nell'ambito delle iniziative di cui parlava Maria Rosaria nel senso che che incominceranno in presenza sicuramente si potrà si potranno approfondire aspetti più di dettaglio più tecnici su questi aspetti degli aiuti di Stato allora io adesso procederei con rapidamente su alcune caratteristiche del procedimento di controllo degli aiuti che è differenziato tra aiuti esistenti e aiuti nuovi che gli aiuti esistenti sono quelli già in vigore al momento dell'entrata in vigore del trattato o che sono aiuti già autorizzati dalla commissione o dal consiglio o addirittura aiuti che prima non si presentavano tali e poi lo sono diventati a seguito di un cambiamento della regolazione del settore magari per interventi di liberalizzazione e diciamo che in questi casi degli aiuti già esistenti c'è un potere generale di un di un esame permanente da parte della commissione rispetto a questi regimi di aiuti che possono legittimare diciamo l'avvio di un procedimento vero e proprio in cui gli stati membri sono chiamati a giustificare una determinata misura e eventualmente a supprimerla o a modificarla secondo le indicazioni espresse dalla commissione indicazioni che se poi non vengono rispettate ovviamente legittimano un ricorso da parte della commissione o di qualsiasi altro stato membro interessato ad avere la corte di giustizia dell'unione europea per far sì che determinate decisioni vengano effettivamente rispettate vi è anche in questo caso ci sono delle ipotesi particolari perché in alcune particolari circostanze particolari circostanze eccezionali diciamo il controllo sulla sull'aiuto non è più un controllo tecnico ma può diventare un controllo politico perché il consiglio deliberando all'unanimità può decidere che un aiuto deve considerarsi compatibile con il mercato interno quando diciamo viene avanzata questa istanza la decisione procedimento di controllo della commissione si sospende però se entro tre mesi non interviene la delibera del consiglio la commissione poi potrà deliberare quindi caratteristiche del procedimento di controllo è che c'è un esame permanente appunto da parte della commissione vi è un obbligo di collaborazione da parte degli stati membri e in caso di dubbi si può arrivare all'avvio di una procedura di indagine formale che può condurre osservazioni da parte degli stati interessati e poi ad una decisione con un ordine impartito allo stato membro di modificare o sopprimere l'aiuto nel termine fissato per quanto invece riguarda gli aiuti nuovi che sono quelli più problematici questi devono essere comunicati o meglio notificati alla commissione in tempo utile affinché presenti le sue osservazioni qui quindi l'aiuto non può essere data esecuzione ad un determinato aiuto prima che la procedura di controllo e di verifica abbia condotto ad una decisione finale e qui c'è questa caratteristica fondamentale di questi due obblighi che incombono sugli stati membri di notificare gli aiuti o meglio il progetto d'aiuto alla commissione e l'obbligo di distend stigo questa clausola sospensiva per cui l'aiuto non può essere data esecuzione finché la commissione non si è pronunciata per il solo fatto che non vengono rispettati questi obblighi l'aiuto assume un carattere illegale e dal carattere illegale dell'aiuto consegue anche un corrispondente obbligo di ripetizione del beneficio concesso e in questi casi non è invocabile da parte delle imprese che hanno beneficiato dell'aiuto il legittimo affidamento nel caso in cui si registri il carattere illegale dell'aiuto ovviamente la natura illegale dell'aiuto non comporta alcuna valutazione sulla compatibilità dell'aiuto con il mercato interno perché spetterà poi sempre alla commissione valutare se questa è effettivamente compatibile tuttavia l'esistenza di un aiuto illegale di cui ha beneficiato un'impresa può avere notevoli percussioni sulle imprese che ne hanno effettivamente beneficiato e ciò in forza di alcuni principi che si sono cristallizzati nell'ambito di alcune vicende giudiziarie poi sono stati tradotti i specifici vincoli normativi per cui è stato stabilito il divieto di concedere aiuti di Stato a imprese che sono state beneficiare di aiuti di Stato illegale che non abbiano appunto rimborsato e è compito dell'amministrazione verificare effettivamente che le altre imprese non abbiano beneficiato di aiuti e ciò lo faranno attraverso il registro nazionale degli aiuti di Stato che è uno strumento che vedremo a breve il procedimento di verifica dell'aiuto si divide in più fasi c'è la notifica dello Stato membro e poi c'è un'indagine preliminare avviata dalla Commissione e al esito di questa indagine preliminare la Commissione di norma entro due mesi adotta una propria decisione in cui considera la misura non costituente un aiuto una misura costituisce aiuto però può essere non sussistono dubbi sul fatto che questa misura è compatibile con il mercato interno e quindi la Commissione recita di non sollevare obiezioni e indicandone le ragioni in un proprio provvedimento che ovviamente è giustiziabile di fronte alla Corte di Giustizia dell'Unione Europea per esempio dagli altri Stati membri oppure può ritenere che sussistono dei dubbi in ordine alla compatibilità con il mercato interno e per questo motivo avvia un'indagine formale e in questo caso si apre quindi un procedimento di indagine formale dove possono intervenire anche i terzi conto interessati questo procedimento dura di norma 18 mesi salvo provoca e anche in questo caso si può concludere con una decisione per cui la misura viene considerata non costituente aiuto eventualmente dopo che lo Stato membro abbia apportato le modifiche richieste dalla Commissione può trattarsi può concludersi il procedimento con una decisione positiva sulla insussistenza di problemi di compatibilità con il mercato interno eventualmente sempre dopo gli interventi correttivi suggeriti dalla Commissione oppure ci può essere una condizione una decisione condizionale nel senso che la Commissione considera l'intervento legittimo purché subordinato ad alcuni interventi che consentano di fare in modo che questo aiuto sia effettivamente compatibile con il mercato unico e infine la decisione può essere ovviamente negativa in tutti questi procedimenti e nella gestione procedimentale di questo accertamento sulla compatibilità degli aiuti i poteri ispettivi della Commissione sono molto ampi e si estendono addirittura fino a indagini sul luogo e ispezioni di luogo con la richiesta di documenti e di estrazione appunto di copie uno strumento però di carattere generale che serve per agevolare tutte le attività di controllo sugli aiuti di stati è il registro nazionale degli aiuti di cui vi ho parlato o ho accennato prima era stato originariamente preceduto da questa da una banca dati delle agevolazioni che però aveva avuto dei problemi operativi perché non veniva alimentata costantemente e a questo fine è stato introdotto questo registro nazionale degli aiuti di stato che è un registro liberamente accessibile in cui devono essere registrate tutte le informazioni attinenti di aiuto da parte dei soggetti pubblici o privati che concedono che concedono la misura e questo registro è funzionale ad una serie di obiettivi che riguardano sia il cumulo il divieto di cumulo per alcuni aiuti sia in funzione di obblighi di trasparenza e pubblicità ma anche in funzione del rispetto di quel principio di cui vi ho parlato rispetto agli aiuti illegali le informazioni che sono contenute negli aiuti nel registro nazionale sono particolarmente pervasive nel senso che contengono praticamente ogni tipologia di aiuto predisposta e questo registro contiene anche un'apposita sezione Deggendorf contenente i dati identificativi dei soggetti che sono erano tenuti alla restituzione degli aiuti legali e liberamente accessibile senza restrizioni e senza obbligo di registrazione e contiene le informazioni che riguardano gli aiuti di almeno appunto dieci anni questo registro nazionale la consultazione di questo registro nazionale e la trasmissione delle informazioni al registro nazionale degli aiuti costituisce una condizione legale di efficacia dei provvedimenti che dispongono regolazione della subvenzione e è particolarmente importante per gli operatori del settore perché l'inadempimento di questi obblighi può comportare la responsabilità patrimoniale responsabile della concessione e della regolazione degli aiuti questo registro nazionale degli aiuti è stato ovviamente adeguato alle nuove esigenze poste dal quadro temporale e è stata prevista anche una sezione dedicata proprio alle misure del temporale framework ho lasciato per ultimo un argomento che è forse un po' più delicato che riguarda invece un particolare settore degli aiuti di Stato che è quello del settore dell'interferenza tra gli aiuti di Stato e i servizi di interesse economico generale questo è un argomento un po' più ostico e si fonda su una regola generale per cui gli Stati membri non mantengono nei confronti delle imprese pubbliche alcuna misura speciale nel senso che le imprese pubbliche sono sottoposte naturalmente alle imprese private alle regole previste dal trattato però prevede una differenziazione per le imprese che siano incaricate di un servizio di interesse economico generale perché prevede che queste categorie di imprese sono sottoposte alle regole alle norme dei trattati e alle regole della concorrenza ma sono i limiti in cui l'applicazione di queste norme non ostia all'adempimento linea di fatto linea di diritto della specifica missione loro affidata che significa ciò che ci stanno alcune se alcune imprese preposte alla gestione di servizi di interesse economico generale dovessero essere integralmente sottoposte alle regole della concorrenza probabilmente non riuscirebbero a garantire quella missione di interesse generale a cui sono preposte per cui lo stesso trattato ammette che l'applicazione di queste regole sulla concorrenza e anche le regole sugli aiuti di stato adesso vedremo con quali correttivi può subire delle limitazioni proprio in funzione di questo affidamento di questa missione di interesse pubblico qual è il problema sostanziale in questi casi è che queste imprese proprio perché sono onerate di specifici obblighi di servizio potrebbero avere bisogno di un sostegno finanziario che gli serva proprio per garantire quegli obblighi che sono stati imposti dalla normativa e qui è stato uno dei settori un po' più delicati dell'intervento europeo perché si tratta di chiarire in che termini questi strumenti di compensazione degli oneri di servizio possano o meno costituire un aiuto di stato possono essere legittimi o meno questa vicenda è stata trattata nell'ambito di varie comunicazioni della commissione europea nell'ambito di decisioni però diciamo che i criteri ordinatori di queste vicende continuano a essere regolati dalle acquisizioni prodotte da una nota sentenza la sentenza sul caso Alkmark che aveva fornito alcuni chiarimenti sulle condizioni in base alle quali alcune compensazioni alcuni strumenti di compensazione degli oneri servizi non possono non vanno a integrare la nozione di aiuto perché non dovrebbero conferire alcun vantaggio cioè le imprese queste compensazioni sono una contropartita rispetto all'assunzione degli obblighi quindi se l'impresa riceve una sovvenzione finanziaria questo non attribuisce un vantaggio e se non attribuisce un vantaggio non stiamo nell'ambito degli aiuti perché sarebbe una misura che difetterebbe di uno appunto dei presupposti individuati dall'articolo 107 quali sono le regole poste da questa sentenza da questa pronuncia altmark che poi sono state riprese nelle successive comunicazioni delle istituzioni europee la prima regola è che l'impresa deve essere effettivamente incaricata dell'adempimento di un servizio pubblico e questi obblighi devono essere definiti in modo chiari i parametri in base ai quali viene definita il calcolo della compensazione devono essere obiettivi e trasparenti e detto in altri termini devono essere dei parametri che non prevedano un sovraccosto un sovraccosto e qui arriviamo all'altro requisito la compensazione non può eccedere quanto necessario per coprire interamente o parte dei costi originati l'adempimento di questi obblighi di servizio però può riconoscere comunque un utile ragionevole e l'altra condizione che viene stabilita è che almeno di norma l'impresa incaricata di questa di questa obblighi di servizio dovrebbe essere scelta attraverso una procedura di gara ma se non viene scelta attraverso una procedura di gara gli strumenti di compensazione se non sono definiti nell'ambito appunto di regole certe vengono ricavate a ritroso attraverso diciamo un'analisi dei costi di un'impresa media che opera nell'analisi del settore o in settori affini qualora ricorrano queste condizioni non c'è un obbligo di notifica preventiva perché non si tratterebbe di un aiuto in senso stretto però possono sorgere una serie di problematiche interpretative rispetto al concreto rispetto di questi obblighi tant'è che ognuno di questi criteri individuati dalla sentenza Altmark è poi stato dedotto e analizzato più dettagliatamente nell'ambito appunto delle comunicazioni europee di riferimento e che chiarisce vari aspetti anche centrali per ognuno di questi requisiti in primo luogo abbiamo detto che deve esserci un servizio di interesse economico generale servizio di interesse economico generale è una locuzione che viene utilizzata per definire quello che è il servizio pubblico e su questo c'è un ambito di sovranità che ancora non è stato ceduto alle istituzioni europee cioè sono gli stati membri che decidono se un determinata attività costituisca o meno un servizio pubblico e quindi bisogna vedere che se c'è l'affidamento di una missione di servizio pubblico ad una determinata impresa che se dovesse ragionare secondo il proprio interesse commerciale probabilmente non assumerebbe i medesimi oneri nei confronti appunto della collettività che utilizza quel servizio vi deve essere poi un atto di incarico formale cioè quest'atto serve proprio per far sì per dimostrare che l'impresa è effettivamente incaricata di questi obblighi di servizio e quest'atto deve essere indicato l'oggetto e la durata qual è il territorio interessato dalla prestazione nonché i parametri di calcolo della compensazione e anche le modalità per evitare delle sovracompensazioni ci sono dei criteri speciali che riguardano i parametri per il calcolo della compensazione che deve essere strutturato in modo tale da non conferire un vantaggio economico e deve essere stabilito in modo riforme per tutte le imprese che operano in determinati settori però si ammette comunque la concessione di un utile ragionevole che nella sua forma minima deve essere inteso come il tasso di remunerazione del capitale investito secondo i itinerari non molto differenziati da quelli che aveva accolto la corte costituzionale nella qualificazione del servizio idrico integrato come servizio di interesse economico generale dove si era fatto riferimento proprio alla necessità di garantire un tasso di remunerazione del capitale investito come uno dei fattori impiegati nella produzione e poi tendenzialmente vi deve essere una selezione del prestatore tramite diciamo delle procedure competitive per quanto riguarda altre prescrizioni che sono state definite nell'ambito poi delle decisioni adottate a valle di queste pronunce e anche a valle delle comunicazioni ci sono altri criteri un po' più particolari che riguardano le imprese o meglio i soggetti incaricati di un servizio di interesse generale in settori quali i servizi sociali che sono settori normalmente privi di rilevanza economica qui non ci sono diciamo limiti alla compensazione degli oneri di servizi mentre per gli altre attività che costituiscono i servizi di interessi economico generale c'è un limite di compensazione di 15 milioni di euro per anni superati i quali la relativa scelta deve essere comunque notificata alla commissione che poi valuterà se effettivamente questa misura costituisce o meno aiuto e se è compatibile con il mercato il periodo di fornitura il periodo appunto dell'incarico deve superare 10 anni e sono previste poi delle regole più dettagliate per alcuni servizi particolari che riguardano il settore dei trasporti in ultimissima analisi chiarita la questione dei servizi aiuti chiarita insomma affrontata accennata la questione degli aiuti di Stato e servizi di interesse economico generale un ultimo accenno ve lo faccio rispetto alle imprese pubbliche che già ne abbiamo parlato perché abbiamo visto che possono interferire con la disciplina degli aiuti di Stato in una duplice veste ossia come intermediarie nella concessione di aiuti però possono rilevare anche come imprese destinatarie di aiuti e pensiamo che le imprese pubbliche pensiamo molte appunto delle società pubbliche esistenti operano anche in settori economici allora qui il principio con cui va contemperata la disciplina degli aiuti di Stato è quello di neutralità degli assetti proprietari nel senso che almeno formalmente i trattati lasciano del tutto impregiudicato il regime di proprietà degli stati esistenti negli stati membri nel senso che si assume che vi sia un divieto di discriminazione che possa trovare fondamento sulla natura pubblica o privata del soggetto proprietario tuttavia proprio in funzione di queste caratteristiche c'è l'esigenza di sottoporre le imprese pubbliche ad un trattamento differenziato e questa esigenza era stata manifestata sin dagli anni attanti introducendo un'apposita direttiva sulle trasparenze delle relazioni finanziarie fra gli stati membri e le loro imprese e qui questa disciplina sulla trasparenza delle relazioni finanziarie è una disciplina particolarmente dettagliata che ci chiarisce sia qual è il significato della nozione da attribuire a impresa pubblica e ci dà anche ed è giustificata dalle istituzioni europee proprio nell'esigenza di sottoporre diciamo l'operatore economico pubblico ha delle regole differenti rispetto a quello privato perché almeno potenzialmente l'operatore economico pubblico può essere animato da soggetti da interessi extra economici e qui ci stanno una serie di oneri imposti da questa disciplina sulla trasparenza sulla trasparenza delle relazioni finanziarie che impongono di comunicare ogni operazione che avviene fra l'azionista pubblico ossia il ministero di riferimento e la relativa impresa anche al fine di disvelare se esistono eventualmente appunto degli aiuti di stato che sono camuffati attraverso dei comportamenti economici e un'ottimissima battuta infatti l'aiuto di stato può essere concesso sia attraverso strumenti autoritativi e questa è la parte più visibile e più semplice del problema però la parte più difficile del problema è quella in cui gli stati pubblici poteri operino attraverso strumenti di diritto privato e in questo caso è più difficile capire se c'è un aiuto e il criterio identificativo dell'aiuto è quello dell'investitore di mercato ossia si cerca di capire se il comportamento adottato dai pubblici poteri investe di operatore economico sarebbe stato adottato anche da un investitore operatore economico privato animato da un scopo lucrativo perché se l'operatore economico pubblico si discosta da parametri impartenimentari del privato il suo investimento il suo acquisto la sua operazione finanziaria dovrà essere considerata come un aiuto e come tale potrà essere giudicato da parte della commissione allora mi sembra che ho sforato già di due minuti nelle slide troverete qualche indicazione in più che potrà essere come un supporto d'approfondimento io allora Maria Rosaria ti lascio la parola a te per i saluti grazie abbiamo fatto una corsa negli ultimi minuti per stare nei tempi e per poter abbracciare tutto il contenuto è chiaro che l'avvocato Caruso ha il merito di aver condensato in tre mattinate il contenuto che sarebbe utile sviscerare in maniera approfondita con più interventi però era una prima panoramica generale ricordo il fine era quello di omogeneizzare le conoscenze tra i nuovi che si agganciano al PSC sia lato regionale di assistenza tecnica i nuovi colleghi e quelli che invece hanno più esperienza sul tema quindi di conseguenza ho insegnato qui la mail di contatto le antene della task force che conoscete fateci pervenire i vostri suggerimenti e indicazioni anche per la ripresa delle attività a settembre non significa che noi andiamo tutti in ferie al contrario siamo in pieno turbinio però appunto con le attività di approfondimento e formative ci diciamo lasciamo ora con delle attività diciamo asincrone quindi come dicevo a breve riceverete questa email quindi chi non si è ancora iscritto su eventi PA che si iscrivesse perché poi manderemo le chiavi di accesso alla piattaforma a distanza dove poi farete le ultime attività per poi ricevere l'attestato allora io vi ringrazio ringrazio in particolare il professor Caruso così come ringrazio tutti i colleghi che si sono alternati nelle varie altre sessioni e arrivederci a presto grazie a tutti